Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui su Spazio Verticale, le migliori novità dal mondo dell'arrampicata le potete trovare solamente qui, quindi iscrivetevi qui sotto al nostro canale per rimanere sintonizzati con tutto ciò che accade nel mondo dell'arrampicata in italiano. Non ve lo sto neanche a dire, Stefano Ghisolfi riesce a liberare Perfetto Mundo 9B+. Sarò breve, volevo solo dirvi e ricordarvi che ero andato a filmarlo nei tentativi precedenti quando la via era bagnata. Ho montato qui una clip per voi che vi mostra un po' la via andiamo a vedere Stefano impegnato in questo 9B+. E allora siamo qua sotto Perfetto Mundo, possiamo controllare i passaggi come ci aspettavamo è asciutta la prima metà, un po' meno di metà, fino al riposo quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rinvii sono asciutti, quindi un pezzo si può provare ed è il pezzo più facile però, pazienza. Poi gli altri 1, 2, 3, 4, 5, più tutta la parte finale dura e sono completamente nell'acqua e quindi oggi mi concentrerò sulla prima parte magari me la studio bene anche se è la sua memoria. Comunque è una ripassata non fa male per tornare quando si asciugherà, che non sappiamo quando. la via parte da questo rinvio giallo, parte da una cengia e percorre questa fessura molto buona all'inizio è molto facile scalabile, ti permette di scaldarti un po'. Poi dopo qua c'è subito la prima sezione non durissima ma che bisogna essere abbastanza pronti. Non entra più. A volte riesco a primo giro, a volte non riesco mai. a volte non riesco a primo giro, a volte non riesco a primo giro, a volte non riesco a a volte non riesco a primo giro, a volte non riesco a primo giro, a volte non riesco a tra persone che possono chiudere, a volte non riesco a Bar too. a volte non riesco a capire, a volte non riesco a cambiare, a volte non riesco a Grazie. No. No. Siamo al secondo giorno di riprese su Perfetto Mundo. Il primo giorno era asciutta solo la prima parte e ci siamo concentrati su quella e oggi sembra, nonostante ieri abbia piovuto la sera, sembra un po' più asciutta e forse si riesce a provare anche il Crux, ovvero il lancio dal monodito alla pinza. Il monodito dovrebbe essere asciutto, la pinza forse con qualche fazzoletto riesco a sistemarla e quindi adesso vado su e vado a vedere com'è. No. No. Vado Sara. Ok, vado. No, la prima è mancata. Ok, Sara. Aspetta. Non ancora. Di nuovo su. Di nuovo l'ho mancata. Ci sbatto contro. Vengo giù. Bene ragazzi, spero che sia stata una puntata divertente e interessante. Se l'è stata, iscrivetevi al nostro canale qui sotto, ve lo ricordo ancora. Noi ci vediamo venerdì con un'altra puntata di Spazio Verticale. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.